come partecipanti alla serata e gli artisti come tributo alla poesia va bene, lo ripetiamo perché per chi era distratto allora i tre artisti che si sono eseguiti hanno detto ognuno di loro per poesia mentre gli altri per il tributo alla poesia ne diranno una sola perché altrimenti ce ne andiamo domani mattina quindi ci presenteremo nome e cognome dell'artista senza aggiungere molto, anzi niente si dice la poesia, un abbraccio e ci salupiamo ok? Grazie per la collaborazione bravo presidente, l'uomo delle sintesi, un uomo intelligente allora Massimo direi di partire col primo gruppo dopo questo, il primo gruppo di poeti che dici? E poi dopo avremo un altro grande momento musicale, molto intenso allora vorrei chiamare sul palco gli amici, se sono presenti insomma allora, Antonio Pascucci è presente? no ok, Clara Chiariello le poetesse, Clara Chiariello, prego Clara, raggiungici sul palco Olga Scarpati Laura Costagliola Maria Di Berastiano prego ragazze microfono è questo ragazze, ragazzi, giovani dentro presentano ognuno dicono la poesia io direi di iniziare da Clara, che l'abbiamo chiamata per prima perfetto, come sono distribuite, sono messe fantasticamente manca a farla apposta ma guardate come sono ordinate queste ragazze che sistematezza allora Clara, è il tuo turno la poetessa Clara Chiariello Massimo, noi ci mettiamo qua alba di donna nasco ogni giorno nei tuoi occhi donna Vera sono nelle tue mani marmore rosa delicata bagno con le mie lacrime di peri il tuo mattino acervo respiro da donna innamorata i tuoi avidi sospiri hai raffinato il mio sangue di zucchero d'uva da donna il mio amore per te diventa alba grazie a tutti grazie a tutti